buon dia e benvenuti a questa nuova puntata di frismas with the coach io e gli altri adventures come abbiamo già raccontato portiamo un titolo dal primo al 24 di dicembre per quanto mi riguarda si parla di titoli gratuiti e oggi andiamo a vedere un titolo con pedigree di tutto rispetto con una ip di tutto rispetto fatto dalla lucas arts ed è un'avventura grafica generata in maniera procedurale quindi ogni volta che l'avverete avrete ogni volta che inizierete da capo avrete una nuova avventura di che sto parlando ne abbiamo portata una in live tempo fa dobbiamo vedere l'altra purtroppo non siamo riusciti a vederla con il buon narpo yuri che saluto e spero di portare di fare una live insieme con lui prima o poi oggi andiamo a a vedere indiana jones and his desktop adventures il countdown è già partito questa bellissima grafica che secondo me ha più senso adesso piuttosto che una volta perché lucas arts indiana jones avventura grafica forse partiva con dei un po di peso sulle spalle forse un pelino troppo quindi bando le ciance andiamo a vedere per avviare il gioco un attimo solo che lo avviamo pipi di pipi 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 di pipi pipi allora il gioco è partito dov'è 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 l'audio facciamo così la finestra è minuscola perché il gioco è una risoluzione minuscola ma tanto a noi ci piacciono i pixeloni ecco fatto ringrazio ancora mangio avventure per i vari suggerimenti che mi ha dato durante queste live è un'avventura grafica quindi ci può anche stare che lascio il logo ringrazio mangio avventure andate a seguire su twitch youtube un sito internet andate a vedere anche il blog di alex cutting che che si chiama punta e clicca il blog delle avventure grafiche il countdown è andato avanti per magia non sappiamo bene il perché e quindi andate a seguirli mi raccomando allora andiamo a vedere un attimo com'è questo indiana johnson is desktop adventures sta generando una nuova avventura grafica tutta per noi non c'è più la musica non so perché come si fa a interagire con le cose hello indeed that fellow balloon is at it again ok cosa abbiamo qua un sacco di monetine e torna sempre utile monetine monetine abbiamo un kit di pronto soccorso e andiamo un po' all'avventura qua c'è la locanda ogni avventura dovrebbe partire così eh o quello intendo di is that some adventure buenos dias i'm gabriella i've heard there's old map somewhere near our village that shows the area well don't go far without it Lots album po' di pianoforte va sempre bene oh andiamo a vedere il tisse col sombrero becomes to lucasio senior jones bonifacio ok, quindi se abbiamo problemi andiamo da lui e lui ci dirà che cosa fare è il venditore di rose, è il rosario José you'll need more than a weapon on your travels look for a real weapon, for real man before you winter away and by the way, if you're seriously hurt, come back and talk to me no, a lot about local medicine, quindi se ci schiattiamo andiamo da lui oh, my home far away from my home quindi questa è casuccia e abbiamo la frusta lavora schiavo non mi ricordo più come si usa la frusta amici di... amici fan di bsdm fate... fate finta di niente e qua iniziamo a affrontare la pianura selvaggia con i pistoleros sì, ma se io non riesco a frustare nessuno è dura, eh ragni giganti ragni serpenti, scorpioni e zanzare di qua non si entra l'antifurto della palafitta ci ha rigettato l'antifurto della palafitta ci ha rigettato pausa, un attimo, che andiamo a vedere quali sono i controlli ok, how to play back hotkeys ok, shift per spingere o tirare spazio mappa, pausa ok ora sappiamo tutto grazie a windows 3.11 spausalo spausalo attenzione una palafitta che si apre e qui che cosa c'è? what's this? abbiamo trovato una cosa importantissima la mappa ok e quindi queste sono le varie caselle che dovremmo andare a affrontare benissimo sono due casse cassa dritta dove è il subwoofer? oh bello zio eh vabbè questa me la potevo anche risparmiare papap ah per armare bisogna ok così ora mi ricordo più che male sembra che faccia un effetto tipo quando spingi una cassa o quando ti meravigli particolarmente per qualcosa di qua di qua non si va di qua quindi dobbiamo andare a salvare questo povero non siamo messi benissimo ma possiamo recuperare un bel labirinto di pietre un bel labirinto di pietre di qua non si va lascia ora doppia ok ok come ho fatto non lo so accetta l'ho accettata ora no non è un'arma l'accetta sembra un'arma ma non è non è e serve a darti l'allegria accetta o raddoppietta c'è qualcos'altro interessante? non mi sembra quindi andiamo mappa di qua ho frustato qualcosa senza nessuna ragione apparente qua ci sono delle rovine tra l'altro qua sotto ci sono delle freccette che ci dicono dove possiamo andare e noi andiamo verso il basso con questi anelli di che ci attaccano di lato eh qualche volta puoi trovare delle cose interessanti sul fondo di questi di queste pozzangare ok ok ho capito non in queste però tanto c'è uno scorpione ehm e io c'è un copricorno oh 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 me lo sono meritato queste botte sì l'ho capito che ci sono a volte delle cose interessanti ma non in questo caso ehm allontaniamoci da questi anelli di troppo cresciuti perché non sono serpenti comunque qua c'è qualche oggetto ma non lo possiamo attualmente recuperare va bene andiamo di qua qua ci sono dei dei nativi che se la fancano abbiamo trovato delle banana delle banane che non credo siano oggetti importanti vai di qua vai di qua questi fanno malissimo tra l'altro c'è una chiave ma se io prendo il basso lo spingo in acqua non si può andare di là di qua di qua non si può andare da nessuna parte non posso frustare in diagonale 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 mi serve una chiave grazie tante devo andare di là devo andare di là a prendere la chiave ma come guarda cosa c'è qua sotto abbiamo preso la chiave si va bene dai su prendiamo la chiave ce ne andiamo possibilmente senza farci uccidere dagli scorpioni scoppioni scommetto che questa chiave che ho trovato andrà in questa porta ok usala ai chihuahua Jones ci ha trovato la mia reputazione mi precede ah non sono spaventato da te Jones mi sa che dobbiamo scappare siamo mezzi morti e mi sa che come dicevano i consigli non ci basta la frusta eh che peccato è finito il tempo e si è incastrato anche il dottor Jones corri ragazzo laggiù vola tra lampidi blu perché stai morendo male e non è il caso la mappa è sbagliata non posso andare sopra eccolo qua sì che posso andare sopra dov'è a casa Jones qua c'è un ragnazzo gigante abbiamo sterminato la fauna da 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 uuuh nazisti ovviamente ci sono anche nazisti che ti bevi che rilevate eh Ma tu non eri quello che ci doveva curare Vabbè Allora io direi che salviamo Salva il mondo Questo si che è un modo di incoraggiare la gente Salva il mondo Jones1 E direi grazie Per avermi seguito fin qua Mettete like Se vi è piaciuto questo contenuto Fate subscribe per avere tutti gli altri video dell'advent E altri miei contenuti Vi ricordo che sono anche su Instagram e su Twitch Prima o poi tornerò anche su Twitch Statenei certi E Mettetevi like Condividete E Se vi va Mi fate contento Il vostro coach vi saluta Vi auguro buone feste Ci vediamo in una nuova puntata di Prismas with the coach A presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti